Il patto 4 tappe del Presidente del Consiglio per sottoscrivere l'accordo slittato a maggio. La visita partirà da San Giuliano di Puglia, poi alla Molisana, all'Università e all'Unilever. Uicidio stradale disposta alla perizia, la Procura di Larino ha affidato l'incarico per ricostruire l'incidente sulla Adriatica. Due giovani hanno perso la vita dopo che il guardrail aveva sfondato l'auto. Il presidio dei sindacati per protestare contro la SEAC domani a Campobasso la manifestazione davanti alla Prefettura. l'azienda del trasporto urbano nel Mirino per i licenziamenti annunciati. Carri e covoni di grano per festeggiare Sant'Anna. Le traglie con i buoi hanno attraversato Ielsi per celebrare la Santa che salvò il paese dal terremoto del 1805. Le spighe protagoniste anche a Pescolanciano. Lega Pro addio, il Campobasso rinuncia. Il manager Aliberti spiega perché la società ha preferito non presentare domanda di ripescaggio. Poche risorse disponibili alla base della scelta. Buon pomeriggio dalla redazione. Un saluto a tutti voi, edizione delle 14 del nostro telegiornale. Atteso a San Giuliano di Puglia, il presidente del Consiglio, da dove comincerà la sua visita istituzionale in Molise. La Molise era slittata a maggio, ricorderete, a causa del maltempo. Renzi arriva dalla Calabria dove in mattinata ha inaugurato un tratto di autostrada della Salerno-Reggio Calabria. In Molise sono in programma quattro tappe. San Giuliano di Puglia appunto dove incontrerà subito i rappresentanti del comitato delle vittime del terremoto. Poi sarà a Campobasso per una visita al pastificio La Molisana. Poi la firma del patto all'università e infine in provincia di Sernia la sosta all'Unilever. Ma intanto sentiamo i particolari da Ana Maria Di Matteo. Era stato il maltempo a far saltare la visita a Campobasso del presidente del Consiglio, Matteo Renzi, prevista per lo scorso 17 maggio. Uno violento temporale costrinse il premier a cambiare itinerario. Era stato all'Aquila e da lì sarebbe dovuto arrivare in elicottero in Molise per la firma del patto per il Sud, ma le avverse condizioni meteo suggerirono di modificare il programma. Così Renzi, a bordo di un'auto, andò direttamente in Puglia a firmare l'intesa con la regione bypassando Campobasso. A distanza di due mesi il nuovo annuncio dell'arrivo in Molise del presidente del Consiglio. Il programma è stato già definito. L'arrivo del premier, proveniente dalla Calabria, per l'inaugurazione del viadotto Italia sull'autostrada 3 Salerno-Reggio Calabria, è atteso per le 14.30 a San Giuliano di Puglia, dove dovrebbe incontrare le famiglie delle vittime del terremoto e affrontare la spinosa questione dei risarcimenti. Alle 16 l'arrivo a Campobasso per una visita al pastificio La Molisana, mentre la firma del patto per il sud è prevista alle 17 nell'aula magna dell'Università del Molise. L'ultima tappa molisana sarà l'Unilever, l'azienda del nucleo industriale di Pozzilli. Una visita, quella del premier, che arriva mentre l'intera regione continua a soffrire le conseguenze di una crisi che non accena ad allentare la morsa. E anche l'area di crisi, che proprio il governo Renzi ha riconosciuto al Molise, rischia di saltare a causa dei ritardi accumulati e della confusione che regna sovrana. Finalmente anche da noi si firma il patto per il sud che potrebbe creare le condizioni per agganciare la ripresa e costruire opportunità occupazionali, ha commentato la Will. Peccato che il premier non trovi il tempo per toccare con mano le tante difficoltà dei molisani. Non una tappa negli ospedali disastrati, non una visita allo zuccherificio, alla GAM, alle fabbriche dismesse, dalla ITR a tutte le altre partecipate, non un'occhiata alle strade dissestate ai piccoli comuni spopolati. Avrebbe così potuto capire meglio il disagio sociale diffuso, la povertà che avanza, la preoccupazione per il futuro, ha concluso il sindacato. Siamo onorati della visita del Presidente del Consiglio a San Giuliano ed è ancora più apprezzabile la scelta di venire a riflettori spenti a 14 anni dal terremoto. L'ha detto il Sindaco Luigi Barbieri, il Sindaco di San Giuliano di Puglio, che questo dimostra la vicinanza e l'attenzione del Governo verso la nostra comunità, segnata indirebilmente dalla tragedia del 2002. Sarà un'altra data storica per il nostro piccolo paese, ha concluso Barbieri. Ma intorno alla visita di Renzi non mancano anche gli interventi polemici, oltre alla Will, quello del Presidente del Consiglio Comunale di Campobasso, Michele Durante, che ha annunciato che non sarà presente all'incontro. Le istituzioni, ha commentato Durante, non sono una cosa privata, mentre le sindaci e i rappresentanti di enti locali hanno appreso dalla stampa della visita del Premier. I modi e i tempi adottati, ha fatto notare il Presidente del Consiglio Comunale di Campobasso, oltre a denotare mancanza di stile e correttezza istituzionale, impediranno a molti amministratori locali di essere presenti. Naturalmente nelle edizioni stasera del Telegiornale saremo dettagliati sulla visita del Premier. Lasciamo questa pagina, apriamo la cronaca, perché la Procura di Larino ha disposto la perizia sull'incidente stradale sulla statale adriatica. Ricorderete che è costato la vita a due ragazzi. Il giovane che era alla guida della Panda, sventrata dal guardrail e indagato per omicidio colposo, ora la Procura ha disposto una perizia. Può il guardrail aver influito nella morte di Andrea Marinelli e Domenico Castrignanò, i due ventenni di vasto, vittime pochi giorni fa di un terribile incidente stradale sulla statale 16 tra Petacciato e Montenero? Com'era l'illuminazione in quel tratto? E ancora il conducente, indagato per omicidio stradale plurimo, aggravato dallo stato di ebrezza, ha rispettato il codice della strada? A queste domande dovranno cercare di dare una risposta gli accertamenti tecnici irripetibili che sono stati disposti dalla Procura di Larino e che si sono svolti nel tratto di statale in cui la Panda è uscita di strada e è incrociato proprio l'inizio del guardrail che ha aperto in due l'utilitaria. Sul posto a scattare foto e prendere in misura il perito nominato dalla Procura Giovanni Russo, ma anche il perito di parte Paolo Lalli e gli avvocati delle famiglie coinvolte dalla tragedia. Tra le cause all'origine dell'incidente potrebbe esserci un selfie scattato in auto con il cellulare e che avrebbe distratto il conducente, facendolo sbandare. Ma sotto accusa finisce anche il guardrail, che nel punto in cui è avvenuto l'impatto sporgeva verso l'interno della carreggiata e non verso l'esterno. Un paracarro di vecchia generazione con una sola barra di protezione e non due come quelli moderni. Addirittura, secondo Giovanni Cerella, che difende il 25enne che guidava la Panda, se non ci fosse stato il guardrail, Andrè e Domenico sarebbero ancora vivi. Solo ipotesi su cui ora la Procura di Larino dovrà far luce. La perizia, chiesta dal PM Ilaria Toncini, proseguirà giovedì sulla Panda distrutta dallo schianto e che si trova in un'officina di Termoli e poi terminerà dopo un ulteriore sopralluogo sulla statale 16. A un giovane di 30 anni di Sernia sorpreso la guida ubriaco su un'auto di grossa cilindrata è stata ritirata la patente e sequestrato il mezzo. I carabinieri della stazione di Castel San Vincenzo hanno invece rintracciato e arrestato un pregiudicato di Napoli, destinatario di un mandato di cattura per usura e estorsione ai reati commessi in provincia di Sernia. L'uomo di 60 anni, residente a Cerro al Volturno, dovrà scontare 3 anni e 8 mesi di reclusione. Previsto per domani il presidio davanti alla Prefettura di Campobasso organizzato dai sindacati contro la SEAC, la società che gestisce il trasporto pubblico in città. L'azienda è finita nel mirino dopo aver annunciato alcuni licenziamenti ma anche a causa del ritardo del pagamento degli stipendi. Sentiamo. L'annuncio da parte dell'azienda di 5 licenziamenti e gli stipendi che non arrivano. È drammatica la situazione dei dipendenti della SEAC, la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico urbano a Campobasso. E per domani tutte le sigle sindacali di categoria hanno organizzato un presidio dalle 10 alle 20 davanti alla sede dell'azienda incontrata a Colle delle Api. Una vicenda che si trascina da mesi che ha avuto come epilogo la decisione da parte della società di licenziare 5 dipendenti. Un caso del quale si sono occupati anche i consiglieri della coalizione civica Piloni e Cancellario che hanno presentato una interrogazione urgente al sindaco Battista e al consigliere delegato per tentare di capire cosa stia realmente accadendo. Ma al momento da Palazzo San Giorgio nessuna risposta, tutto tace. Un silenzio che preoccupa ancora di più gli autisti che a questo punto temono tutti per il loro posto di lavoro. Alla base del ritardo nei pagamenti ci sarebbe il mancato trasferimento delle risorse da parte della Regione al Comune un rimpallo di responsabilità, uno scaricabarile che ha le sue ripercussioni sui lavoratori ma anche sul servizio che rischia lo stop. I due consiglieri di opposizione tra l'altro hanno anche chiesto alla Regione il documento di congruità del rimborso chilometrico riferito ai chilometri autorizzati annualmente. Nel frattempo resta l'incertezza sulle procedure relative al bando di gara per la gestione del trasporto pubblico integrato annunciato dall'amministrazione comunale come la svolta per il servizio locale ma che al momento segna il passo. E in attesa che si faccia chiarezza anche su questo aspetto i sindacati ricordano che i livelli occupazionali vanno tutelati così come vanno garantiti gli stipendi, due concetti che ribadiranno anche domani ai vertici della SEAC. A Pozzilli adesso dove la decisione del comune di non far costruire il palazzetto dello sport non è stata proprio digerita bene. Siamo stati in paese a sentire cosa ne pensa la gente. Il servizio è di Sergio Di Vincenzo. Tramonta l'idea di realizzare un palazzetto dello sport a Pozzilli. Qualche anno fa il comune e l'impresa Scarabbeo avevano firmato una convenzione ma ora la nuova amministrazione comunale non ha approvato il provvedimento che dà il permesso a costruire nell'area dell'ex depuratore. A questo punto non è escluso che il palazzetto dello sport e il palazzetto dello sport venga realizzato in un altro comune. Altri sindaci infatti hanno già manifestato il proprio interesse. Certo è che la mancata realizzazione dell'opera sta facendo discutere a Pozzilli. Io non sono del posto ma se è la cosa di utilità pubblica non vedo perché non la debba fare. Tutto ciò che contribuisce a migliorare le condizioni della gente è tutto buono ed è giusto che venga fatto. Grande fregatura perché ciò che viene a Pozzilli ben venga, al di là delle beghe politiche. Per me ben venga. Poi purtroppo comandano loro, non possiamo fare niente. È un'opportunità sciupata come quando per la neurometrica doveva andare a Venapra. Venapra le più date l'hanno presa a Pozzilli e si vede il risultato. Un'opportunità persa come tante altre opportunità. Ci sono cose ben più gravi da verificare, non è questo uno dei problemi del paese. Sarebbe una struttura che farebbe piacere avere in questo paese visto che per fare attività fisica c'è poco o niente da quando hanno chiuso anche il campetto di calcio che era uno svago per noi studenti. Comunque mettevi un qualcosa in più in un paese che ha poco e davi comunque un lustro e qualcosina di più da fare. Alla fine è un paese che ha molto poco quindi valorizzare le strutture sportive sarebbe una cosa molto giusta e anche bella. A Marina di Montenero di Bisaccia invece è stato inaugurato al porto turistico uno sportello per dare informazione e assistenza. Ce ne parla in questo servizio Manuela Iorio. Offrire assistenza turistica in italiano e in lingua straniera per scoprire le bellezze della regione molise. Con questo obiettivo è stato inaugurato al porto turistico Marina Sveva di Montenero di Bisaccia uno sportello in grado di accogliere e informare i vacanzieri. L'iniziativa è stata voluta dalla Confesercenti di Campobasso in collaborazione con il Centro Studi sul Turismo dell'Università del Molise che metterà a disposizione i suoi studenti per i tirocini formativi. Lo sportello collabora con gli operatori locali come albergatori, organizzatori di congressi e altri uffici in formazione presenti sul territorio. All'Infopoint i turisti troveranno tutta l'assistenza e le informazioni necessarie anche per visitare il Molise interno. L'idea è nata, devo dire la verità, proprio qualche mese fa da una visita nostra da parte della Confesercenti qui in questa bella struttura di Marina Sveva e abbiamo subito lanciato la proposta di uno sportello turistico in Infopoint e quindi abbiamo nel giro di breve tempo siglato appunto un protocollo d'intesa tra la Confesercenti, Assoviaggi e il porto di Marina Sveva. Ovviamente poi io per primo ho preso anche accordi con l'Università degli Studi del Molise in questo caso in particolar modo con il professor Pazzagli del Centro Studi sul Turismo. Quindi questo sportello diventa un vero e proprio front office anche per raccordare il turismo costiero con il turismo interno che è quello che vogliamo maggiormente promuovere. Non a caso ci sono molti comuni che hanno aderito, hanno sposato questo progetto. In 400 dal Molise a Cracovia in Polonia per la 31esima giornata mondiale della gioventù che sarà celebrata da Papa Francesco in programma da oggi fino al 31 luglio. Con loro anche il Vescovo di Campobasso Giancarlo Bregantini il gruppo è composto da giovani seminaristi, suore, sacerdoti delle diocesi. Durante il percorso anche una sosta a Denno in provincia di Trento, paese di origine del Vescovo. E ora parliamo di Sant'Anna la cui festa ricorre oggi. Santa patrona di alcuni comuni, di tanti comuni in particolare celebrata a Yeltsi dove si svolge la tradizionale processione delle traglie il servizio di Giuseppe Carriera. La 211esima edizione della Festa del Grano in onore di Sant'Anna a Yeltsi si conferma come un evento di grande richiamo non soltanto regionale ma anche interregionale. Sono tantissimi i pullman che sono giunti a Yeltsi con loro ovviamente tanti turisti tanti appassionati di tradizioni popolari ma anche sappiamo che c'è qualcuno che appunto è qui per fede perché Sant'Anna viene celebrata da oltre due secoli con la massima intensità proprio a Yeltsi con un lavoro paziente, un lavoro minuzioso un lavoro tradizionale ma al tempo innovativo quello della realizzazione delle traglie e dei carri con grano, paglia e legno. Le traglie tradizionali trainate dai buoi l'inchino come di consueto davanti al carro della Santa e poi i carri di fattura artistica quest'anno davvero eccezionali la tridimensionalità che viene espressa sia nelle forme ma anche nei colori, nelle sfumature, nelle ombre e poi ovviamente i temi la pace in primo piano, la interculturalità. Sant'Anna è una festa attesa da tutta la comunità yelsese dai piccoli ai grandi che si preparano nel segno del grano a condividere la gioia, il cuore, quindi la festa soprattutto con il verbo amare e amare oggi significa condividere il messaggio della festa è farsi dono come quel chicco di grano si fa dono per amore diventa spiga matura copiosa così è l'invito per i nostri cuori per la nostra vita a saper intrecciare cuori e mani perché la vita abbia il suo colore, la sua bellezza, il suo profumo così come la spiga di grano così come tutta la nostra vita Devo fare un complimento a tutta la comunità yelsese perché veramente si sta impegnando in un modo particolare devo ringraziare le treccianti che hanno fatto le trecci come vedete qua, l'addobbo del paese anche i carristi si sono superati quest'anno sono riusciti a fare veramente delle opere d'arte L'augurio è che continuiamo sempre per questa strada la comunità di Yelsi è sempre ben disposta ad accogliere tutte le persone sia molestane che fuori regione faremo sempre, diamo sempre il nostro meglio E intanto si pensa anche a tutta la giornata una giornata da vivere insieme con altri appuntamenti la processione nel pomeriggio il concerto dei Modena City Ramblers questa sera e ovviamente anche la possibilità di visitare il MUFEG il Museo di Comunità della Festa del Grano che lo ricordiamo dallo scorso anno è attivo qui a Yelsi in Contrata Convento e raccoglie tantissime persone che vogliono dunque approfondire anche da un punto di vista museale quello che è la Festa del Grano quello che è questa grande festa di comunità Sant'Anna viene celebrata anche a Pescolanciano dove la processione avviene portando i covoni ma sempre Grano è e sempre Grano è protagonista in questa giornata Sergio Di Vincenzo anche a Pescolanciano la ricorrenza di Sant'Anna è molto sentita un legame profondo che ha origine agli inizi dell'Ottocento quando un terremoto sconvolse il Molise in segno di ringraziamento per la tragedia scampata ogni anno il paese si veste a festa e offre ciò che in passato rappresentava la principale fonte di sostentamento il Grano Il Grano diventa protagonista protagonista perché era il modo per pagare la festa che aveva la gente e l'offerta appunto del Grano che è rimasta proprio nella tradizione di Pescolanciano volutamente proprio il Comitato ha sempre insistito in questo modo nel corso degli anni cioè il Grano è l'occasione per dire il nostro grazie a Sant'Anna per dire il nostro grazie a Dio e questo è l'intercessione di Sant'Anna è quella che ci permette di sentirci questa protezione di Dio e anche di sentire il senso della festa ecco il grano diventa l'offerta il grano diventa importante per la tresca il grano diventa per la semina Oltre ai covoni durante la sfilata si notano anche costumi d'epoca spesso caratterizzati da quella semplicità che identifica il mondo contadino Abbiamo cercato di ricreare un po' la tradizione contadina proprio con l'aiuta confezionando questo vestito proprio Ah quindi prima si usavano vestiti così per andare in campagna? Eh un po' sì semplici pratici non molto raffinati proprio perché un ambiente contadino richiama un po' la semplicità in fondo la naturalezza Tra le novità di quest'anno la presenza di un carro trainato dai buoi preso in prestito da Larino Gli soli degli altri anni abbiamo fatto sempre con i trattori e quest'anno abbiamo deciso di prendere questi buoi di fare con usanza proprio antica come potete vedere dietro i manocchi venivano messi così insomma come facevano i vecchi tempi le persone anziane che andavano in campagna Alla sfilata partecipano davvero tutti dai bambini ai più anziani segno di una devozione fortissima che lo scorrere del tempo non riesce a scalfire 93 anni e mi sento ancora di mettere il grano Quindi lei va ancora a mettere il grano ogni anno? Questo è sempre la campagna mia la campagna delle altre non è mia bella ogni ora ogni mezz'ora mi viene alla casa mi faccio per il bucchere e poi gli armi mi sento ancora di fare questo questo lavoretto Anche a Campobasso è stato presentato il cartellone degli appuntamenti estivi mostre fotografiche rievocazioni naturalmente non manca l'enogastronomia teatro sport sere d'agosto a Campobasso si aprirà con la mostra itinerante Yemen il 30 luglio e si chiuderà il 4 settembre con una manifestazione sportiva in piazza municipio spazio anche alle feste dei quartieri con musica, spettacolo e prodotti locali e proprio uno dei quartieri storici della città il quartiere CEP che ora si chiama quartiere Nord ha organizzato una serie di appuntamenti collegati con la parrocchia il parroco in prima linea intervistato da Raffaella Di Carlo dal 29 luglio tutti i venerdì appuntamento per restate al nord sì assolutamente sì restate al quartiere Campobasso Nord vi invitiamo tutti chiaramente è un invito che rivolgiamo non solo ai residenti della zona nord di Campobasso ma a tutta la città e ogni venerdì li aspetteremo in diversi punti quindi dal parco di via Cirese a largo Grammici dal 29 di luglio al 2 settembre Don Vittorio Perrella parroco della chiesa di San Giuseppe Artigiano qui a Campobasso per presentare questa estate 2016 con un nome appunto Restate al quartiere Nord di Campobasso lo scopo è di crescere riscoprendo perché restate in quartiere ma non possiamo restare in quartiere se lasciamo prima scappare i buoi e poi chiudiamo la stalla riscopriamo il quartiere la validità di un quartiere a Campobasso perché è partito di una eccessiva gioia chiamiamola così ma tra virgolette all'inizio quando è nata questa città satellite ma poi veramente questo quartiere è diventato sono rimaste le strutture non c'erano più i giovani che giocano i bambini che sono organizzati grazie al comitato di quartiere che si è preoccupati di questa attività che ha anche un carattere religioso però eminentemente culturale familiare e sociale che senza cultura senza riscoperta di società attraverso i bambini questo è il miracolo che cerchiamo di compiere riportare in chiesa nella vita sociale scolastica di giochi riportare le famiglie mamma e papà con tutti i loro problemi tutti li conosciamo attraverso i bambini che i bambini diventano un punto di attrazione di ripresa di quei valori familiari e sociali è tutto ci fermiamo qui per questa edizione delle 14 vi lascio alle previsioni del tempo tra poco più di mezz'ora ci troviamo per gli aggiornamenti grazie per essere stati con noi e appiottati grazie per la visione